L'ipotesi degli investigatori della polizia è che dietro il rogo ci sia il racket delle estorsioni, ma si attende di capire da dove siano partite le fiamme per poter affermare che sia stato un attentato. Ieri una nube nera ha invaso lo Zen, bruciati tre tir nel piazzale di una ditta di trasporti in via Lanza di Scalea, la Grandi Servizi, specializzata in trasporti e logistica. L'incendio scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì si è propagato con velocità e è interessato i tre mezzi pesanti. In uno c'erano pedane e cariche di carta per uso domestico, per questo il rogo si è esteso. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore. Dal piazzale si è alzata subito la nube nera che ha raggiunto le zone vicine. L'aria è stata irrespirabile per tutto il giorno, sarebbero state bruciate sostanze inquinanti, tanto che è intervenuto il nucleo NBCR per valutare i possibili rischi per la salute. La polizia ha ascoltato il titolare della ditta che ha riferito di non avere ricevuto richieste di denaro né minacce.